Su Radio ISAB c'è Infermieri in Rete, un programma a cura dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Infermieri in Rete in collaborazione con l'Opi di Pescara. Quest'oggi abbiamo due ospiti con noi e parleremo di 118 e di Elisoccorso. Allora, io direi di partire subito con il primo ospite di oggi. Diamo il benvenuto a Nicolino Violante, l'infermiere del 118 di Pescara. Buongiorno Nicolino. Buongiorno, buongiorno a te. Allora Nicolino, io so che tu sei un infermere specializzato proprio del 118 e allora voglio fare con te una prima parte introduttiva. La prima cosa che ti chiedo è come è organizzato il 118 di Pescara e quindi di fare un quadro generale a tutti i nostri ascoltatori. Il 118 è il numero dell'emergenza sanitaria. È composto dalla centrale operativa che è il cuore del 118. Nella centrale operativa abbiamo due operatori, due infermieri, più un medico di centrale che è il responsabile della centrale operativa. Poi abbiamo dislocate su tutto il territorio di Pescara le ambulanze. Le ambulanze sono dei mezzi di soccorsi di base formati da volontari autista e infermiere chiamate India e poi abbiamo i mezzi di soccorso avanzati che sono ambulanze ASL e sono diciamo formate da personale ASL, quindi medico, infermiere e autista personale ASL. In più un mezzo di soccorso avanzato e anche l'elisoccorso. Però questo poi ve ne parlerà il collega Antonello. Bene Nicolino, dopo aver fatto una prima parte, un quadro generale diciamo sull'organizzazione del 118 di Pescara, la domanda successiva che ti voglio fare ovviamente è il processo, l'iter che segue ad una chiamata al 118. Questi due operatori ricevono la chiamata di soccorso, dopodiché questa chiamata viene gestita e processata. Vengono fatte alcune domande al chiamante. In base alle domande, in base alle risposte, viene assegnata diciamo così un codice di gravità. Questo codice poi servirà successivamente per assegnare l'unità da inviare. Questa unità che verrà inviata è una di queste ambulanze che vi dicevo prima. Viene inviata quella più idonea, quella più adeguata all'intervento e quella più vicina. Questi che può essere sia il mezzo di soccorso di base oppure il mezzo di soccorso avanzato. Ricordiamo che la centrale operativa naturalmente gestisce dal primo istante l'intervento di soccorso e quindi viene, diciamo che viene, passa un po' tutto da lì. Eccoli Colino, allora una volta chiarito l'iter che segue una chiamata al 118, la prossima domanda che ti voglio fare è dove sono dislocati i mezzi di soccorso del 118 per l'appunto nella provincia di Pescara? Sono dislocati un po' su tutto il territorio di Pescara. Abbiamo le medicalizzate, abbiamo una a Pescara, una a Penne, una a Popoli, una a Montesilvano, una a Scafa, una a Pianella a Barra Catignano. Significa che Pianella di giorno, Catignano di notte, comunque sono medicalizzate. E quindi in più abbiamo anche l'elisoccorso pronto ad arrivare su ogni intervento. In più vengono in nostro aiuto le convenzionate, cioè chi ha una convenzione con l'ASRE. È composta da volontari, un esempio potrebbe essere la Croce Rossa, la Misericordia. Collaborano con noi anche sull'emergenza urgenza. Oltre al servizio di emergenza che abbiamo chiarito in modo molto esaustivo anche direi, quali sono le altre attività dell'infermiere del 118? Servizi assistenza allo stadio, assistenza al servizio aeroportuale, ma soprattutto facciamo formazione. Insieme ai medici del 118 siamo istruttori BLSD, oppure di trauma, oppure di PBLSD. Abbiamo molti istruttori e quindi su tutto il territorio di Pescara facciamo formazione. Ringraziamo nuovamente Nicolino Violante, l'infermiere del 118, per averci illustrato le caratteristiche dalla chiamata, dalla nascita dell'emergenza. Oltre ad aver fatto un quadro generale su quelle che sono le caratteristiche organizzative del 118. E tra pochissimo intervisteremo anche Antonello D'Emilio, infermiere del 118 di Pescara, nonché dell'Eli Soccorso di Pescara, per parlare per l'appunto di Eli Soccorso. La radio che fa bene a chi l'ascolta, sei su Radio ISAB. Ed eccoci tornati in diretta su Radio ISAB per parlare ancora di 118. Questa volta però lo facciamo con Antonello D'Emilio, infermiere del 118 di Pescara, nonché dell'Eli Soccorso di Pescara. Buongiorno. Buongiorno. Allora Antonello, con te andremo ad affrontare la tematica dell'Eli Soccorso. Allora, la prima domanda che voglio farti è come è organizzato l'Eli Soccorso in Abruzzo. In Abruzzo abbiamo due elicotteri. Un AV-169 presso l'aeroporto d'Abruzzo a Pescara e un AV-139 presso l'aeroporto di Preturo all'Aquila. Bene, quindi le eliambulanze, perché poi di questo che si tratta sono due in Abruzzo, ma come sono equipaggiate e quali sono gli operatori che vi operano? Come detto, l'eliambulanza è un'ambulanza che vola ed è attrezzata per interventi EMS, cioè Servizio Medico di Emergenza con Elicottero, e interventi SAR, cioè ricerca e soccorso con uso di verricelli in ambiente ostile o in pervio. L'eliambulanza è attrezzata come un'ambulanza con una barella a bordo, con un impianto dell'ossigeno, con bombe e tutti gli erogatori. Inoltre ha un defibrillatore manuale integrato con pacemaker, apparecchio per l'ECG a 12 derivazioni, pulso simbrio, apparecchio per la pressione e capnografo. Respiratore o ventilatore automatico, l'aspiratore, pompe di infusioni, l'ecografo, apparecchio per l'eglicemia, defibrillatore semi-automatico, l'ossigeno portatile, materiale per l'intubazione e la gestione delle vie aeree, per l'accesso venoso e intraosseo, tutti i farmaci, materiale per le medicazioni, poi per il trattamento del paziente traumatizzato, tavola spinale, collare cervicale, stec per immobilizzare gli arti, materazione, depressione, estricatore, protezione termica. Inoltre per i soccorsi SAR, quindi l'ambiente ostile, abbiamo la barella per ricellabili, imbrachi, corde e altri materiali per la messa in sicurezza e il recupero del ferito e tutto questo viene gestito dal tecnico del soccorso alpino. A bordo di un'eleambulanza opera il personale sanitario che è composto dal medico anestesista rianimatore e l'infermiere del 118, quindi l'infermiere di area critica. Questo arriva dopo un corso di formazione per operatori di eli soccorso, quindi proviene dall'area critica, quindi conosce il suo lavoro da infermiere di emergenza, inoltre fa una formazione in più per operare a bordo delle eliambulanze. A bordo abbiamo l'equipaggio di condotta che è composto dal comandante, che è il pilota, possiamo averne uno o due sull'elicottero di Pescara, abbiamo un solo pilota, più il tecnico elicotterista. Il tecnico elicotterista atterra il controllo e la manutenzione del mezzo. In volo collabora col pilota, quindi un copilota ed è anche il verricellista, colui che comanda il verricello. Inoltre abbiamo un'altra figura che è il tecnico del soccorso alpino, che è una figura professionale specializzata, responsabile della sicurezza dell'equipaggio sanitario e del paziente nelle fasi di sbarco, recupero, in ambiente ostile e in barco del paziente a bordo. Allora Antonello, abbiamo ben capito che all'interno di un'eleambulanza non manca assolutamente nulla. Gli strumenti sono tanti, anche il personale è altamente qualificato e allora la prossima domanda che ti voglio fare è che tipo di preparazione deve avere il personale dell'elisoccorso? Oltre alla preparazione per arrivare all'elisoccorso, noi proveniamo tutti dall'area critica, c'è un corso proprio per addestrarsi, per formarsi all'elisoccorso. Io ai miei tempi faccio ormai l'elisoccorso da 24 anni, lo feci all'aeroporto Le Valdigi di Cuneo con l'elisoccorso del Piemonte. Oggi in Abruzzo siamo in grado noi stessi di addestrare e di preparare il personale. Quindi oltre a questa preparazione di base iniziale, noi facciamo addestramenti continui, che chiamiamo le semestrali, sia su quelle invernali che quelle estive. L'invernale è su ambienti in nevato, anche per il soccorso in palanca, quelle estive sempre in ambienti difficili come può essere la montagna e qui si fa sempre uso del verricello, quindi c'è un addestramento continuo. Inoltre anche altri addestramenti, anche per evitare gli incidenti o l'uso dei dispositivi di sicurezza e così via. E poi ogni giorno abbiamo un briefing giornaliero, appunto, appena si entra in servizio si fa un briefing, quindi un ripasso un po' di tutto, sia per tecniche per salire e scendere dall'elicottero, quindi come avvicinarsi, e anche sull'eventuale emergenza. Quindi se dovesse avere emergenza a bordo siamo in grado anche noi stessi di intervenire. Beh, una preparazione importante sicuramente, visto anche il mezzo di cui stiamo parlando. Parliamo di un'aeliambulanza e quindi giustamente serve la preparazione. Ma l'ultima domanda che ti faccio, prima di andare a conclusione, è in quali casi è richiesto l'intervento dell'elisoccorso? Allora, l'elisoccorso è richiesto sempre per interventi gravi. Una premessa è che l'elicottero riesce a raggiungere in meno tempo il target, a volte anche dove l'ambulanza non può arrivare, come può essere un ambiente in vervio, un ambiente ostile, appunto la montagna. E poi può trasportare il paziente, non sembra l'ospedale più vicino, ma l'ospedale più idoneo per quel tipo di patologia. Cioè l'elicottero viene usato per due tipologie di interventi. Cioè l'intervento primario, c'è un evento, un incidente, un malore, quindi viene inviato su questo evento. Oppure per i trasporti secondari, che sono trasferimenti urgenti tra ospedale e ospedale, quindi anche in questo caso viene utilizzato l'elicottero, appunto dall'ospedale di provenienza si va a un altro sia in regione che extra regione. Una parentesi, quella sull'elicottero, devo dire, è molto importante, visto l'importanza appunto del mezzo. Allora io ringrazio Antonello De Miglio e Nicolino Violante, infermieri del 118 di Pescara, e ringrazio nuovamente l'OP di Pescara. Noi ci diamo appuntamento tra due mercoledì con un nuovo appuntamento di Infermieri in Rete. Su Radio ISAB c'è Infermieri in Rete, un programma a cura dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara.